Adesso andiamo nel principe dei principi dell'area imprenditoriale che è uno strumento con il quale voi governate tutto, dal punto di vista di storia imprenditoriale avete questo strumento, il prossimo intervento è un intervento di spiegazione tecnico ma lui ha un dono che è il dono di rendere semplici le cose complicate. Accogliamo con un grande applauso virtuale Alessandro Palumbo. Grazie Mirko. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti. Sono tutti i tuoi. Grazie Mirko, prendo il gira slide. Oggi come anticipava Mirko parleremo di numeri, parleremo di controllo di gestione attraverso un documento che rappresenta l'output perfetto, l'output principe del controllo di gestione. Vale a dire il piano industriale. Ma che cos'è il piano industriale? Perché prima di toccare con mano l'expertise con la quale dovrete all'interno delle vostre realtà costruire questo documento, parliamo della definizione di piano industriale. Perché se non riusciamo a capire il significato diventa difficile poi continuare con il mio intervento che vuole essere appunto un piccolo manuale di istruzioni che permetterà a voi, al vostro team, di realizzare all'interno della vostra realtà questo documento. Allora, il piano industriale rappresenta, lo dice la slide stessa, un documento in grado di esplicare attraverso una metodologia in primis numerica numerica perché si parte dai numeri, in secondo luogo descrittiva. Quindi, se noi ci pensiamo bene, il piano industriale è quel documento che deve essere in grado di dimostrare, e questa parola è fondamentale per il piano industriale, dimostrare di poter raggiungere determinati obiettivi prefissati, ripeto, sotto il profilo economico, sotto il profilo finanziario e patrimoniale. Ma quali sono questi obiettivi che il piano industriale vorrebbe raggiungere? Sono degli obiettivi che possono essere catalogati in interni ed esterni. Da un punto di vista esterno, io posso, passatemi il termine, vendere il mio piano industriale perché voglio convincere determinate terze parti che potrebbero darmi del denaro tipo banche che l'investimento attraverso la mia realtà è sicuro perché io attraverso il mio business riesco a remunerare il capitale chiesto a prestito. Quindi devo dimostrare che il mio business, lato economico, sia marginale, lato finanziario io riesco ad avere quel cash flow tale per cui le rate vengano remunerate periodicamente in maniera corretta, e lato patrimoniale la mia realtà sia solida. Da un punto di vista interno, invece, l'imprenditore lungimirante può decidere di utilizzare questo documento per migliorare semplicemente le performance aziendali, valutare nuovi business. Quindi prima di iniziare, diciamo, un nuovo percorso imprenditoriale, l'imprenditore deve partire dai numeri, non può andare a braccio. Quindi l'unico metodo che l'imprenditore ha per capire se il business sta in piedi o meno è costruire un piano industriale, un vestito su misura su questo nuovo business che vorrebbe portare avanti. Avere una visione prospettica del proprio business, opporre più in generale le basi per un passaggio generazionale. Quale deve essere il contesto di creazione? Allora, io posso decidere di costruire, implementare, dar vita ad un piano industriale all'interno di un'azienda storica. L'imprenditore, in questo caso, non vuole mutare il suo business, ma vuole semplicemente capire, da qui a cinque anni, quale sarà la marginalità, quale sarà il suo cash flow, quale sarà lo suo status patrimoniale in virtù di ciò che potrebbe impattare sul suo business storico relativamente ad investimenti o disinvestimenti che vuole portare avanti. L'imprenditore, invece, che ha al suo interno un'attività storica, potrebbe pensare di inserire una nuova linea di business. Ma come posso capire se questa nuova business unit andrà ad incrementare il mio EBITDA generale, il mio cash flow generale, attraverso un piano industriale. Quindi io prendo il mio business storico, inserisco costi e ricavi, attività e passività, entrate e uscite relative all'ipotetico nuovo business e lo posso valutare. Un'altra metodologia che poco spesso viene utilizzata a livello di piano industriale è valutare attraverso questo strumento, appunto, un'operazione straordinaria. Operazione straordinaria che potrebbe essere una scissione, una fusione o un conferimento. Quindi io voglio, a questo punto, riuscire a fondermi con un mio competitor. Come posso capire se questa fusione fa il caso mio, andando a costruire le numeriche economiche, finanziarie e patrimoniali attraverso questo documento? Ancora, posso utilizzare un piano industriale per valutare ex novo un business. Tutti gli start-upper dovrebbero utilizzare al proprio interno un documento di questo tipo, perché come possono capire se la loro idea di business sta in piedi? Attraverso un piano industriale. A questo punto iniziamo ad utilizzare i giusti termini. Se io nei primi tre casi volessi costruire un documento prospettico di questo tipo, allora utilizzerei un piano industriale. Nel quarto caso per una start-up, il piano industriale prende il nome di business plan. Quindi in gergo, quando io parlo di business plan, parlo di piano industriale fatto, costruito, cucito su misura su un business nuovo, proprio appunto di una start-up. Quali sono i requisiti interni che l'imprenditore dovrebbe avere per poter mettere a terra questo documento? Beh, sicuramente una conoscenza numerica. Non basta, attenzione, il commercialista, perché ricordiamoci che il commercialista ci aiuta lato tasse. Lato numerico performance aziendali ci vuole una figura interna che si occupi di controllo di gestione. Quindi l'imprenditore che vuole affacciarsi alla redazione di questo documento deve necessariamente avere al proprio interno o un controllo di gestione o un consulente che possa dargli quegli strumenti e quelle nozioni in grado di poter mettere a terra le sue numeriche. L'imprenditore ancora deve essere focalizzato sul suo business da cui ha cinque anni. Perché? Perché è normale che io debba fare delle proiezioni, soprattutto economiche. Quindi se non ho la possibilità di capire quello che potrebbe essere il mio fatturato, la domanda o l'offerta da qui a cinque anni, necessariamente devo affidarmi ad un consulente esterno che possa fare delle analisi di mercato. L'ultimo requisito che io reputo basilare è che il piano industriale deve essere semplice e comprensibile perché la stragrande maggioranza dei fruitori di questo documento o non sono addetti ai lavori, quindi persone che capiscono poco di numeri, o dall'altra parte potrebbero essere delle persone che hanno un'estrazione di business completamente diversa alla mia. Quindi io devo presentare loro un documento semplicissimo che possa far capire le mie numeriche. A questo punto vi do un input, la prima mia vera call to action. La call to action riguarda il piano dei conti. Il piano dei conti rappresenta il vostro biglietto da visita, la guida che dovrebbe utilizzare il fruitore del documento per capire e comprendere i vostri numeri. Quindi se voi mi andate a redigere un piano industriale con un piano dei conti che neanche voi capite, diventa difficile poi vendere ad arti il proprio business. Quindi prima di iniziare la redazione del piano industriale, il mio consiglio è passate in rassegna il vostro piano dei conti economico, quindi la descrizione dei costi e ricavi oggi inseriti all'interno del vostro bilancio e laddove non dovesse essere chiara la voce di costo, di un costo, di un ricavo, cambiatela, rendetela più chiara, ok? Quindi analizzate il piano dei conti non con la vostra testa, ma con l'occhio di una persona e la mente di una persona che non fa parte della vostra azienda e del vostro business. Quindi sostanzialmente il piano industriale che cosa deve rappresentare? Deve rappresentare una conoscenza, una conoscenza del business trattato sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale, ok? Quindi il piano industriale deve rappresentare, lato economico, una certa marginalità, perché io mi aspetto che il piano industriale possa essere marginale, possa avere un EBITDA sostanzioso, sopra addirittura quell'8% che oggi in medio credito centrale impone essere l'EBITDA minimo che ogni imprenditore dovrebbe avere per far sì che la sua azienda possa essere reputata marginale. Se un'azienda è marginale non è detto che finanziariamente stia in piedi, quindi io devo necessariamente, conclusa la parte economica, switchare costi e ricavi in entrate e uscite per valutare che vi sia una sostenibilità finanziaria. All'inizio di un'attività, vi parlo di, ad esempio, una start-up, non è detto che un business marginale possa essere finanziariamente solido. A quel punto il gap finanziario sarà la cifra che io dovrò andare a chiedere a finanziatori. Quindi attraverso questa esemplificazione io ho la possibilità di andare in banca, di andare da un finanziatore e chiedere effettivamente la cifra che a me serve per fare impresa, per mettere a terra la mia idea imprenditoriale. Lo stato patrimoniale deve rappresentare anche una solidità, quindi nel momento in cui io avrò a disposizione il mio stato patrimoniale quinquennale ho la possibilità attraverso questo documento importantissimo che molto spesso viene snobbato dall'imprenditore di avere tutti quegli indicatori creditizi che oggi le banche utilizzano per darci un giudizio in termini di rating. Quindi se io non ho lo stato patrimoniale e io non ho la conoscenza dello stato patrimoniale non posso neanche capire il metro di giudizio che oggi le banche utilizzano per darmi un valore, per bollarmi attraverso quello scoring che nel quotidiano utilizzano. Deve rappresentare infine il piano industriale un documento coerente. Quindi se io dovessi costruire un documento un documento quinquennale su un'azienda storica senza l'inserimento di nuovi business io non posso da qui a due anni inventarmi dei margini doppi. No, devo essere coerente con lo storico e deve essere attendibile. Quindi formalizzato sulla base di ipotesi realistiche e giustificabili. Quindi noi abbiamo parlato di teoria ma alla fine chi deve sporcarsi le mani? Chi deve redigere all'interno della vostra realtà il piano industriale? Beh, prima di tutto l'imprenditore perché parte tutto dall'imprenditore. Il deus ex machina deve essere l'imprenditore. L'imprenditore però soprattutto all'interno di attività strutturate non può far tutto quindi dovrà delegare ai propri responsabili di funzione al proprio management la redazione di taluni lavori relativi al piano industriale. Quindi vi faccio un esempio. Lato economico la costruzione della parte costi produttiva deve essere demandata necessariamente al mio capo produzione. La redazione dei numeri commerciali deve essere demandata al mio responsabile commerciale e via dicendo. Deve l'imprenditore come ho detto in precedenza in mancanza di una conoscenza numerica piuttosto che di un'idea di business futura in termini di domanda e offerta andare a sfruttare l'expertise di consulenti esterni. Quindi sostanzialmente il piano industriale che cosa deve contenere? Che elementi deve contenere? deve contenere sostanzialmente due tipologie di elementi. Ok? La prima tipologia di elementi prende il nome di valori quantitativi. Lo dice la parola stessa. Quantità. Numeri. Quindi si parte dai numeri sotto il profilo economico finanziario patrimoniale e indicatori di performance da qui a un quinquennio. Una volta che io ho messo a terra le mie numeriche quindi i valori quantitativi allora vado ad arricchire la mia messa a terra dei numeri attraverso delle note descrittive che possano aiutare il fruitore sulla guida dei numeri. Ok? Quindi io devo aiutare il fruitore del piano industriale oltre al di là dei numeri a capire chi sono. Quindi devo inserire alla fine all'interno del mio piano industriale le cosiddette note valori qualitativi. Ok? Quindi descrittivi. Cosa sono questi valori qualitativi? Una descrizione dell'impresa. Storia dell'impresa e composizione societaria. Delle note relative all'imprenditore. Chi è l'imprenditore? Qual è la sua storia? Quali sono le sue skill? Al management. Quindi io devo necessariamente inserire all'interno del mio piano industriale un organigramma. Ma questo organigramma deve essere costruito anno dopo anno. Deve seguire la crescita aziendale. Quindi se io nel primo anno facente capo al mio piano industriale ho un fatturato di un milione di euro avrò un certo organigramma fatto da X persone. Se da qui a cinque anni io voglio atterrare ad un fatturato cinque volte superiore al primo è normale che il mio organigramma debba essere differente. Ok? Più corposo. Quindi l'organigramma necessariamente all'interno di un piano industriale deve seguire anno dopo anno l'andamentale dei numeri. Devo ancora arricchire questo documento attraverso una descrizione della mia clientela quindi del mercato dei miei competitor quindi in termini di offerta e prodotto o servizio venduto. Quindi abbiamo sino al punto 7 parlato di teoria che cos'è il piano industriale che cosa serve il piano industriale. Però noi come diceva all'inizio Mirko non ci fermiamo alla teoria noi adesso passiamo a bomba sulla pratica quindi voglio darvi degli strumenti tali per cui voi possiate effettivamente mettere a terra questo documento. Quindi la redazione del piano industriale lato non teorico pratico pratico parte dal conto economico ok? Parte tutto dal conto economico attenzione alla sequenza che vi darò perché è fondamentale se voi mi sbagliate la sequenza non sarete in grado fidatevi di mettere a terra questo documento quindi si parte tutto dal conto economico primo step avere a disposizione un riclassificato di conto economico ok? Vi farò vedere da qui a qualche slide che cosa intendo io per riclassificato di conto economico per le aziende storiche l'ideale è già riclassificare l'ultimo triennio in modo che l'imprenditore possa già avere dei dati storici circa la sua marginalità quindi derivante dai costi variabili e la composizione dei costi fissi nel momento in cui io dovessi redigere un piano un business plan quindi su una start up e non dovessi avere dei dati storici o scarico dei bilanci relativamente ad aziende che potrebbero essere similari alla mia piuttosto che l'attenzione che dovrete avere è quella di non scadere in una marginalità esageratamente elevata e costi fissi troppo bassi quindi il primo step supponiamo di iniziare un piano industriale con l'esercizio 2023 ok quindi io dovrei riuscire a prendere i miei costi fissi quali sono i costi fissi sono quei costi totalmente slegati dal fatturato ok se il fatturato aumenta quel costo non aumenta esempio di costo fisso il commercialista l'assicurazione il leasing ok quindi io parto dai costi fissi sostenuti nell'ultimo esercizio concluso quindi in questo caso 2022 e vado a riattualizzare attraverso un riclassificato di conto economico i potenziali costi fissi 2023 costo per costo a questo punto fatti e inseriti costi fissi io imprenditore devo simulare quello che potrebbe essere un fatturato raggiungibile quindi inserisco il mio fatturato vendite a questo punto inserito il fatturato io ho la possibilità di costruire e terminare il mio conto economico attraverso l'ultimo elemento mancante vale a dire il monte costi variabili che cosa sono quei costi variabili sono quei costi che variano al variare del fatturato in virtù della loro natura variabile quindi vengono analizzati lato controllo di gestione non per valore assoluto ma sulla percentuale che lo stesso ha sul fatturato quindi io prendo la percentuale storica dei costi variabili e la vado a riattualizzare in base ai costi fissi al fatturato che io ho inserito come obiettivo quindi a questo punto inseriti i costi fissi proiezione di fatturato percentuale di costi variabili vi rendete conto che io ho già concluso il mio primo conto economico del mio primo piano industriale a questo punto l'imprenditore dovrà soffermarsi sul break even point quindi il fatturato minimo che deve necessariamente raggiungere per con la marginalità derivante dei costi variabili pagare i costi fissi quindi dovrà avere un break even point che necessariamente sta sotto il fatturato raggiungibile altrimenti c'è qualcosa che non va e devo valutare che l'EBIDA sia effettivamente sopra soglia ok per me la soglia è l'8% fatto questo io andrò a replicare in maniera diciamo identica il processo per gli anni a venire quindi utilizzerò il mio 2023 appena costruito come base per la costruzione del mio conto economico prospettico 2024 quindi taro i costi fissi inserisco il fatturato percentuale dei costi variabili sul fatturato ok quindi diventa estremamente importante al termine della redazione dei primi cinque anni economici effettuare laddove non ho quelle conoscenze delle analisi di mercato per capire se il fatturato inserito effettivamente è raggiungibile o meno a questo punto il mio conto economico riclassificato dovrebbe avere questo aspetto quindi parto dei ricavi tipici e piano piano vado a togliere tutti i costi intervenuti per il raggiungimento di quel fatturato suddivisi per gruppi di appartenenza quindi supponiamo che questo sia il piano industriale di una carpenteria quindi avrò ricavi tipici vendita di manufatti in ferro acquisti merci costi produttivi quindi tutti quei costi che io utilizzo in produzione per far sì che il mio acquisto possa essere tramutato in prodotto finito vedete come all'interno di questo riclassificato il piano dei conti è chiaro e attraverso diciamo quella seconda colonna v o f io ho la possibilità di dare la natura al mio costo v sta per variabile f sta per fisso quindi io ho la possibilità di andare in maniera molto semplice a capire come devo necessariamente budgetizzare i costi quindi il piano industriale lato economico prosegue con i costi del personale i costi commerciali i costi amministrativi le bid da e alla fine ho il mio break even point ok quindi io devo dare la chiarezza oltre al mio margine di quello che è il mio break even point quindi questo è un documento che io vi invito a copiare perché è perfetto per iniziare all'interno della vostra realtà un percorso di piano industriale il secondo step è quello di una volta costruito il conto economico switchare sul contesto finanziario ok perché perché è molto più semplice per voi una volta che avete costruito il conto economico basta prendere costi e ricavi inseriti nel documento che abbiamo visionato in precedenza e switcharli in entrate e uscite ok quindi il primo step è quello di avere a disposizione un file di tesoreria un budget di tesoreria che poi vi mostrerò quindi devo prendere tutti i costi e ricavi inseriti in conto economico e switcharli in entrate e uscite attenzione dovete però per poter mettere a terra questo switch in maniera corretta pulita cristallina tenere a mente due input il primo è che entrate e uscite a differenza di costi e ricavi devono essere aumentate dell'iva laddove presente perché il conto economico agisce sull'imponibile il cash flow agisce sulla spesa sull'uscita e sull'entrata IVA compresa perché voi l'IVA la versate voi l'IVA la incassate seconda regola il conto economico agisce per competenza lo stato patrimoniale invece scusate il cash flow agisce per cassa vi faccio un esempio i dipendenti che io pago a gennaio in conto economico rientrano a dicembre perché la competenza è di dicembre ma lato flussi di cassa io l'uscita ce l'ho a gennaio quindi quell'uscita per le buste paga di dicembre io la devo conteggiare necessariamente quando l'uscita andrà palesandosi quindi a gennaio quindi l'obiettivo del contesto finanziario è quello di capire effettivamente al di là della marginalità economica se il mio business lato finanziario sta in piedi o devo chiedere dei sussidi al di fuori diciamo delle mie possibilità quindi quello che voi dovrete utilizzare è un documento molto semplice tipo questo parto dal primo dato importantissimo che è la vostra disponibilità di cassa in questo caso al primo gennaio 2023 e piano piano andremo a togliere tutte le uscite tutte le uscite che possano però essere legate ai costi e ricavi che io ho inserito in conto economico quindi il mio consiglio è quello di utilizzare il medesimo piano dei conti che voi avete utilizzato per il conto economico perché questo vi permetterà di non omettere alcun tipo di entrata e di uscita quindi io mi aspetto che al termine di ogni anno voi abbiate un ultimo rigo tipo questo indipendentemente dalla marginalità economica quella che è la disponibilità di cassa a questo punto l'imprenditore costruito il piano industriale lato economico costruito il piano industriale lato flussi di cassa necessariamente deve mettere a terra l'ultimo elemento forse il più ostico che è lo stato patrimoniale già mi immagino l'imprenditore ma porca miseria ma adesso dove come faccio a costruire un piano industriale un piano uno stato patrimoniale io non l'ho mai fatto molto semplice perché se voi doveste seguire questo step questo iter lo stato patrimoniale andrà costruendosi automaticamente perché vive gli elementi che compongono lo stato patrimoniale sono degli elementi che io ho già calcolato all'interno della redazione del mio conto economico e del mio cash flow prospettico quindi prima di tutto per la redazione del contesto patrimoniale dovrete avere un riclassificato di stato patrimoniale che poi vi mostrerò anche qui copiate dalle slide prendete questo documento che è fatto davvero bene ed è semplice dovrò inserire all'interno dello stato patrimoniale che si suddivide in attività e passività in primis le immobilizzazioni all'interno delle attività che cosa sono le immobilizzazioni sono i beni superiori al vecchio milione di lire 516 euro che voi acquistate non destinate alla vendita quindi che andrete ad utilizzare per portare avanti la vostra attività di business ok dovrete andare ad inserire gli investimenti che avete già fatto e che andrete a fare vi lascio poi questo schema che vi permette di capire anche gli anni di ammortamento dei cespiti che andrete ad inserire poi secondo step inserire le giacenze di magazzino niente di più semplice le ho già inserite in conto economico quindi prelevo il dato e lo inserisco crediti e debiti entro e oltre i 12 mesi anche qui semplicissimo i crediti entro e i crediti oltre i 12 mesi io ho il mio cash flow che riporterà effettivamente il monte crediti e debiti che dovrò andare ad inserire ultima voce delle mie attività liquidità immediate vi ricordate l'ultimo rigo del mio cash flow la disponibilità di cassa ecco è quella quindi anche qui avete l'elemento lato passivo dovrò andare ad inserire il patrimonio netto che cos'è il patrimonio netto è il capitale sociale e le riserve in virtù degli utili che io ho registrato nel corso degli esercizi precedenti dovrò poi andare ad inserire come per i crediti debiti entro e debiti oltre i 12 mesi anche qui ragazzi nulla di più semplice ho il mio cash flow prendo i dati che ho all'interno del cash flow e li butto all'interno dello stato patrimoniale quindi vedete come seguire queste semplici regole vi permettono e soprattutto questo semplice iter che parte dal conto economico atterra sul cash flow e infine ho la possibilità di redigere automaticamente lo stato patrimoniale pensate che cosa potrebbe essere partire dalla redazione di uno stato di un piano industriale partire dallo stato patrimoniale non riuscirete mai nell'intento quindi ascoltate me ascoltate seguite questo iter che vi ho dato quindi lo stato patrimoniale anche qui deve come per il conto economico essere messo a terra attraverso un riclassificato semplice di questo tipo metto le mie immobilizzazioni passo ai crediti e ai crediti entro ai crediti oltre i 12 mesi atterro sulle passività in termini di capitale sociale debiti entro e debiti oltre i 12 mesi quindi a questo punto voi dovrete andare ad utilizzare l'expertise che oggi posso avervi dato in termini teorici fino al punto 7 delle mie slide e mettere a terra attraverso i riclassificati che vi ho dato le vostre numeriche avete tutti gli strumenti certo dovete aver voglia dovete aver voglia di sporcarvi le mani attraverso diciamo un lavoro con il quale poi andrete credetemi a vivere di rendita quali sono le mie call to action circa questo mio speech tanto cari Amirco allora prima di tutto porre in essere delle indagini di mercato per capire quella che potrebbe essere la domanda e l'offerta da qui a 5 anni assicuratevi che il piano dei conti sia chiaro e cristallino partite dal conto economico 5 anni di conto economico vi ricordate gli step costi fissi fatturato e costi variabili costruire un prospetto cash flow che possa switchare costi e ricavi in entrate e uscite e alla fine avrete a disposizione il vostro stato patrimoniale in maniera magica assicuratevi che le ipotesi future di erogazione di finanza siano considerate all'interno del cash flow calcolare poi attraverso il match tra il conto economico e lo stato patrimoniale gli indicatori creditizi tanto cari alle banche ok quindi queste sono le mie call to action da lunedì vi chiedo di metterle sicuramente in Alessandro bravo 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 allora tranquilli innanzitutto adesso rispondiamo alle domande tranquilli innanzitutto che domani vi spiegheremo come si può anche fare insieme questa costruzione di questo prezioso documento perché è il documento dei documenti quindi è la mappa di bordo è tutta una serie di cose che servono per voi quindi domani vi spiegheremo come farle metterle a frutto abbiamo utilizzato due interventi un intervento ispirazionale di stefania logato e un intervento esplicativo di Alessandro sono opposite no sono opposite sono agli antipodi servono tutti e due perché se avete l'ispirazione ma non avete il controllo dei numeri andate random se avete il controllo dei numeri e non avete l'ispirazione non andate da nessuna parte quindi ricordatevi che fare l'imprenditore vuol dire essere completi a 360 gradi ricordatevelo se non vi piacciono i numeri stampatevelo me li devo far piacere i più importanti anni della mia vita sono stati l'88 l'89 il 90 ho fatto 86 corsi in tre anni di numeri solo di numeri perché altrimenti non avrei potuto prendere in mano la mia attività e svilupparla i numeri comandano articolo 6 da Buon Veneto comanda Kikigai Skay allora Roberto le slide poi sono reperibili in qualche modo assolutamente si Roberto dopo la fine dell'evento avrete tutte quante le slide concentratevi sui bullet point scrivetevi i bullet point Gabriele si può avere il file dei vari conti della tesoreria vista del slide si anche per te Gabriele assolutamente si può avere ma è importante spiegare come Jenny miei complimenti molto esotivo semplice ma professionale ve l'avevo detto che Alessandro ha il dono di essere semplice su cose che sembrano complicate Claudio Alex quando posso consultarmi come consulente e quanto costi Claudio domani spiegheremo i percorsi e quindi anche sui percorsi ci sarà tutto il piano industriale deve essere un mantra da questo momento in poi per chiunque di voi Luigi lei ha un software semplice creato da lei stesso per questo piano industriale no software cose semplici io sono per le cose semplici e da realizzare immediatamente Paolo Guarino ciao nel conto economico per definire l'EBIDA bisogna considerare gli importi imponibili totali compresi IVA guarda Paolo l'ho spiegato prima il conto economico agisce sull'imponibile quindi senza IVA quindi l'EBIDA è un dato desumibile dal conto economico quindi senza IVA Filippo per cortesia mi servirebbe capire meglio il break even point per le start up e nello specifico una start up innovativa in fase grow di crescita perché è il momento in cui i fondi personali finiscono e è necessario apporto di capitale break even sì allora il break even point è molto semplice il break even point è il fatturato minimo che tu con la tua start up devi raggiungere per poter remunerare con la tua marginalità i costi fissi quindi tu dovresti prima di tutto capire il monte dei tuoi costi variabili supponiamo che i tuoi costi variabili abbiano un peso del 60% sul fatturato totale quindi la tua marginalità media del 40% vuol dire che i miei costi fissi dovrebbero rimanere sotto quel 40% per far sì che tu possa essere in break even però il senso è che sino a quando tu non mi fai una distinzione tra costi fissi e costi variabili utilizzando il mio riclassificato non potrai mai avere il break even una domanda che ami te la fa Stefano che differenza c'è tra il piano industriale e il business plan allora come ho spiegato prima Stefano il piano industriale è un documento come ho descritto oggi tarato su una realtà storica il business plan è il medesimo documento costruito su una start up quindi il documento è lo stesso cambia la natura dell'azienda start up barra storica Arianna potresti spiegarmi l'attribuzione dei costi variabili che sono percentuali e non come valore assoluto? certo perché se io volessi oggi mettere a terra un mio budget io supponiamo a parità di business rispetto all'anno precedente di voler raddoppiare il fatturato come posso capire come potrebbero essere budgettizzati i costi variabili? nulla di più semplice utilizzo la medesima percentuale che gli stessi avevano l'anno scorso aumento il fatturato i costi variabili aumentano proporzionalmente ma la percentuale è la stessa bella domanda di Adriano Maranzia assolutamente interessante e utile non vedo l'ora di capire come poter essere accostato Adriano io e il mio team Alessandro e tutti i professionisti andiamo a fare una cosa dare uno strumento e rendere autonome le persone domani spiegheremo come possiamo spiegarvi questo strumento e rendervi totalmente autonomi quegli 86 corsi che io ho fatto tra il 1988 e il 1990 quando ho fatto l'operazione finanziaria che insieme ad altri miei colleghi abbiamo acquisito la maggioranza del gruppo e sono stati fondamentali e lo possono essere anche per voi questi due giorni sono due giorni di informazioni a tutto tondo quindi domani c'è la spiegazione di questo percorso Anna Maria Alessandro spiega cose incomprensibili in un linguaggio semplice e accurato te l'ho detto grazie Anna Maria grazie Anna Maria te l'ho detto grazie mille Christopher buongiorno come sei riuscito a rilevare l'azienda a cui ti trovi a capo solo attraverso la cassa che generava sì Christopher attraverso uno strumento che si chiama Management Buy Out vai a vedere su Google MBO insieme ad altri tre colleghi abbiamo fatto questo strumento si crea un veicolo il veicolo contrae un finanziamento dalla banca e il pagamento del finanziamento avviene attraverso gli utili aziendali spiegato in termini tecnici rispondo io a salvo la soglia la soglia dell'8% vale per tutti i settori e per qualunque fatturato allora in realtà l'8% è la soglia minima se io dovessi darti oggi salvo un range per le aziende produttivo barra commerciali un EBITDA buono dovrebbe essere dovrebbe uscire dall'8 al 15% per aziende di servizi sopra il 20% ricordatevi una cosa niente cazzate teoriche non seguite chi vi dice è automatico vi moltiplico triplico faccio quello che voglio ci vuole fatica e applicazione per le cose perché senza fatica e applicazione e ve lo spieghiamo noi come si fa ve lo spieghiamo noi come si fa avere lo strumento e utilizzare lo strumento le illusioni non sono di questo percorso mio questo messaggio devo dire che mi emoziona perché l'imprenditore è un imprenditore che conosco molto bene ed è davvero lo leggo io allora giudizio Giorgio testimonianza abbiamo collaborato con Alessandro per due anni e ha portato un'icona in icona la cultura di controllo di gestione piano industriale è un professionista attento attraverso l'ascolto aiuta l'imprenditore lui è stato alla base con la quale abbiamo iniziato la nostra crescita Giorgio che si chiama Giorgio Neppa è venuto a uno dei nostri eventi e è partito da un'ispirazione di uno dei nostri eventi sapete dove è arrivato alla quotazione di borsa in Austria della sua società quindi è partito da livello ispirazionale di un evento che abbiamo organizzato è arrivato lì grazie Giorgio per la tua testimonianza grazie Giorgio e grazie per seguirci e se un imprenditore di successo come lui segue questa due giorni vuol dire che c'è tanto 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 grazie Giorgio Emanuela come possiamo computare la quota ammortamento dentro il conto economico molto semplice all'interno delle slide nelle ultime slide ho inserito la quota di ammortamento quindi gli anni attraverso i quali tu dovrai ammortizzare i diversi cespiti suddivisi per natura quindi nulla di più semplice Marina ottimo intervento sono d'accordo anche sul fatto di avere persone che ti possono redigere i numeri è anche vero che bisogna avere la competenza per poter avere un'idea che i numeri funzionino pur non avendo passione dei numeri che corsi possono essere consigliati per i numeri quali corsi hai fatto Mirko negli anni allora io come ti ho detto Marina ho fatto questi 85 corsi domani spiegheremo esattamente cosa fare per arrivare ad appropriarsi di questo discorso Marina ha sollevato una cosa molto interessante e cioè benissimo ci avete parlato del piano industriale ok io voglio conoscere il piano industriale però poi vorrei che lo facessero altri ma vorrei prima conoscerlo questa è la diciamo l'iter perfetto no io mi appropio del 20% di competenze per sapere cos'è un piano industriale poi parlo col professionista il mio dialogo col professionista diventa di altissimo livello perché io capisco cosa lui dice e lui riceve da me informazioni il piano industriale è un capolavoro che viene fatto tra l'imprenditore che pone le assunzioni e il professionista che le mette nero su bianco ok e ricordatevi sempre l'articolo 40 chi è i numeri comanda è proprio e questo è in tutte quante le cose tutto questo discorso qua è fondamentale Marina grazie per questa domanda e grazie ad Alessandro grazie Mirko per questo strepitoso intervento grazie a tutti